Un progetto che aveva aperto le porte a Capodorlando alla collaborazione tra pubblico e privato, una formula che adesso è sostanzialmente quella di riferimento anche per il Governo nazionale che proprio qualche mese fa ha dato priorità alla concessione di finanziamenti per l'impiantistica sportiva solo attraverso il coinvolgimento economico di chi andrà a gestire le strutture. Ed in questo modo Capodorlando aggiunge da ieri alla sua impiantistica sportiva un vero e proprio fiore all'occhiello. Ad esattamente tre anni dalla stipula dell'accordo col credito sportivo avvenuta nel giugno 2011 e la ratifica del Consiglio Comunale, il nuovo centro, il Tartarughino, è stato ufficialmente inaugurato. Ci sono due persone che veramente vorrei ringraziare su tutti, sono l'ingegnere Michele Gatto e la signora Daniela Michale che sono le due persone senza le quali oggi non ci sarebbe niente di tutto questo. Oggi si chiude un viaggio iniziato nel novembre 2009, mentre giocavo a calcetto insomma ha cominciato a piovere abbiamo dovuto interrompere la partita. Da lì ho cominciato a pensare a cosa mancava, a cosa si poteva fare e ho fatto una proposta al Comune che mi ha subito accettato per mia grande fortuna. Questa è la quarta che nasce dopo la palestra di ginnastica, due campetti di calcetto sempre fatte da privati con la collaborazione del Comune e questo il Tartarughino che veramente, ho dato un'occhiata, è veramente bellissimo. L'impianto sorge nella zona Nettuna, alle spalle dello stadio comunale Merendino ed è dotato di due campi di calcio. Il primo scoperto per disputare incontri di calcio a sette con manto insintetico di ultima generazione, il secondo coperto da una struttura in legno lamellare che viene dotato di una superficie calpestabile in PVC modello Olympic. Il campo al coperto sarà comunque omologabile per tutte le discipline sportive. L'opera, il cui costo supera il mezzo milione di euro, viene sostenuta per il 50% dall'associazione Il Tartarughino grazie ad una convenzione col Comune che si è fatto garante presso il credito sportivo che ha concesso il mutuo. Un'opera straordinaria, allora venne contestato il ricorso al privato. Oggi invece è norma, il governo Renzi ha emanato una norma che invita le pubbliche amministrazioni a interagire con i privati, esattamente come abbiamo fatto noi, offrendo addirittura un fondo di garanzia statale. Noi siamo felicissimi, questa struttura è a servizio di tutti. Il suo costo verrà in buona parte ripagato dall'utilizzo della stessa, la presenza dei privati, che sono orlandini, che lavorano e che hanno occupazione. Soprattutto che sono ragazzi, soprattutto che hanno una grande intraprendenza, ai quali va il mio primo complimento e il mio primo grazie, sono alla garanzia della durata e della corretta manutenzione di un'area che per anni sembrava non poter trovare soluzione.